La prima redattrice è Anna Maria Giusti, storica dell'arte, ultimamente direttrice della Galleria Nazionale di Arte Moderna di Palazzo Pitti, però in precedenza per molti anni è stata direttrice del laboratorio di restauro dell'Opificio delle Pietre Dure. E quindi ha diretto alcuni tra i restauri più importanti e significativi di materiali fiorentini, basti ricordare la porta del Ghiberti, poi il Cristo del San Sovino, la Bacuc di Donatello, potrei fare una lista lunghissima. Oltre a questo, lei è veramente la maggiore esperta di commesso fiorentino, un argomento sul quale ha scritto molti libri e articoli specialisti. Sono più adatta e sicuramente più competente a trattare il tema che ha indicato con il titolo i pavimenti lapidei a Firenze in epoca barocca. Le do la parola e la ringrazio per essere venuta. Ringrazio Lorenzo Lazzarino e il professor Volter per questo invito, che è stato anche per me lo stimolo a prendere in esame un tema, quello dei pavimenti, che sinceramente era rimasto finora abbastanza escluso dalla mia attenzione, con l'eccezione del pavimento della Tribuna degli Uffizi, che avevo avuto modo di studiare un paio d'anni fa, in occasione di un convegno dedicato appunto alla Tribuna. e diciamo la mia disattenzione, come sentivo anche dalle relazioni di ieri, forse un po' posso essere giustificata, non è solo mia esclusiva, ma è un po' il problema dei pavimenti che, come abbiamo visto, godono di un'attenzione fisica e poi quindi conseguentemente anche di una sfortuna critica abbastanza inspiegabile, ma a cui forse ora si sta mettendo rimedio. Considerando il grande favore che a Firenze ebbero le pietre policrome, producendo risultati più brillanti, come sappiamo, negli arredi della famosa manifattura grandocale, attiva dalla fine del Cinquecento, e qui vi faccio vedere un tavolo che è da poco riemerso all'attenzione e che ritengo sia del periodo, proprio del primo periodo in cui a Firenze ci si dedica a questo tipo di lavori, nel casino di San Marco, dove Francesco, primo de' Medici, aveva riunito le botteghe degli specialisti nel taglio dei marmi archeologici, perché inizialmente furono quelli, ovviamente, la passione comune del Cinquecento, ma poi, molto presto, come vedete qui, anche le pietre dure, che sono protagoniste quasi uniche, con l'eccezione del broccatello di Spagna, di questo splendido piano. La manifattura fu attiva poi per tre secoli e ci si potrebbe quindi aspettare che anche i pavimenti riflettessero pariteticamente lo stesso lapideo splendore, ma così non è, in parte per quanto nel tempo è andato perduto, per l'usura, naturalmente, e per il mutare del gusto, ma in misura forse maggiore per una scelta d'origine, che ha fatto sì che i medici riservassero soprattutto, e dopo di loro, le loro cure, le loro attenzioni agli arredi che uscivano dalla manifattura. E per quel che riguarda l'architettura, quella inclinazione alla sobrietà, che nel trascorrere del tempo e nel susseguirsi degli stili permane come segno distintivo dell'architettura fiorentina, ha finito per vincolarla, anche in epoca barocca, alla misura formale e materica messa a punto dal rinascimento. Anche se è da dire che agli esordi dell'esplodere della passione per i marmi colorati nella Firenze del secondo cinquecento, passione che non fu esclusiva della corte medicea, ma condivisa e in certi ditto fiorentina, l'asciutto linguaggio architettonico cittadino cedette in più occasioni alla lusinga delle belle pietre, come le chiama Agostino Del Riccio nel suo famoso trattato, appunto, scritto a Firenze nel 1596. Se l'esempio più celebre è il pavimento della Tribuna degli Uffizi, progettato dal Buontalenti per Francesco I dei Medici, esso godette di un precedente illustre nella cappella che Niccolò Gaddi stava ideando per la propria famiglia in Santa Maria Novella già dagli anni Sessanta, che era ultimata nel 1577 sul progetto di Giovanni Antonio Dosi, per la prima volta fa il suo ingresso a Firenze il gusto per il rivestimento di manmi e policromi, massima parte di provenienza archeologica che include pareti e pavimenti, qui vedete appunto un dettaglio del pavimento disegnato da Dosio, e questo gusto, il Dosio, che era di origine fiorentina, ma lo importa Toscana, cioè lo importa dal suo lungo soggiorno romano, verosimilmente su sollecitazione del committente stesso, quel Niccolò Gaddi, non a caso consigliere artistico di Francesco dei Medici, che fu in prima persona collezionista di anticalie, come li definivano al tempo, e disegnatore lui stesso di piani di tavolo a interzio lapidio. Subito a seguire, altre due architetture di marmi e policromi erano in corso a Firenze nei primi anni Ottanta del Cinquecento, ma già questo gusto decorativo dimostrato dal Dosio a Santa Maria Novella subisce un freno, sia nella Cappella dei Salviati in San Marco, progettata dal Giambologna, e in quella Nicolini in Santa Croce, dove di nuovo è all'opera il Dosio, e i due pavimenti, San Marco e Santa Croce, pur nel diverso impianto compositivo, sono accomunati dalle astratte geometrie che governano le partiture dei marmi policromi, sono ancora marmi archeologici, là dove invece nel pavimento Gaddi, come avete visto, si era manifestata una più aperta inclinazione decorativa parallela a quella dei contemporanei piani di tavolo romani, perché sicuramente c'era un interscambio tra partiture architettoniche e marmi policromi e piani di tavolo che erano diventati dalla metà del Cinquecento l'oggetto proprio cult del collezionismo italiano e non solo. Dove invece la fantasia manierista, che brilla in tanti aspetti dell'arte fiorentina di fine Cinquecento, trova modo di forzare la vocazione geometrica e prospettica manifestata nelle due cappelle che ho appena citato, è nel pavimento della tribuna, vediamolo di nuovo, realizzato nel 1583-85. A proposito del recente restauro della tribuna e della disattenzione per i pavimenti, può essere abbastanza singolare che, essendo stata ovviamente tutta sgomberata dai suoi arredi artistici, è stata per circa due anni in restauro, non il pavimento che stava bene, ma le pareti e la cupola, bene, non è stata fatta una fotografia del pavimento generale né in dettaglio, quindi anche queste foto che ho fatto io in occasione del convegno erano con la tribuna già riallestita. E dicevo, questa duttile quanto organica in telaiatura costruttiva dà respiro a una molteplicità di invenzioni decorative e a una polifonia di accordi cromatici pausati ed esaltati insieme dal controcanto del marmo bianco. Qui i marmi sono archeologici in maggioranza, ma compaiono anche le brecce medisce, che è da allora che stanno cominciando la loro diffusione, non solo fiorentina, come ricordava ieri Lorenzo Lazzarini. Ne era da aspettarsi da meno di questo beccemento dalla brillante vena creativa del buon talenti estroso genio sloci della corte di Francesco dei Medici che nel decennio seguente immaginava per gli erigenti sepolcri della Cappella dei Principi che all'epoca, ultimo decennio del Cinquecento, era in progettazione ma non ancora avviata. Ecco, sopra questi sepolcri dovevano, secondo il buon talenti, ergersi monumentali statue di marmi policromi dei Granduchi, rimane al Museo dell'Opificio solo una grande testa a commesso di marmi policromi di Cosimo I che era nello studio del buon talenti e alla sua morte a testimonianza di questo progetto pensato, e queste statue dovevano essere sullo sfondo di grandiosi paesaggi a commesso che amplificassero in scala monumentale quelli che la Manifattura Medicia andava preparando per l'altare che avrebbe dovuto sorgere al centro della Cappella stessa. A questo fascinoso progetto Ferdinando I che avviò poi concretamente nel 1605 la costruzione del mausoleo dinastico di Granduchi Medici preferì quello del poliedrico fratellastro Don Giovanni dei Medici con un rivestimento parietale quello che vediamo oggi di preziosi e aniconici pannelli di pietre dure tutte pietre dure comunque la cui orchestrazione policroma viene ordinata entro regolari in telaiature a fronte di questo apparato sontuoso ma severo l'anziano buon talenti scontento evidentemente di essere stato accantonato che osava parmi cosa todesca probabilmente individuando non senza ragione nella cappella una qualche affinità con la veste formale e decorativa degli stipi architettonici d'oltre Alpe che Don Giovanni aveva ben conosciuto nel suo soggiorno alla corte imperiale di Praga e che non mancavano nelle collezioni Medici tra i diversi disegni che ci rimangono che sono preliminari alla fondazione della cappella di diverse attribuzioni soprattutto tra buon talenti e Don Giovanni questo soltanto che è riferito a Don Giovanni presenta l'alzato nella forma in cui verrà realizzato e prevede la presenza di un pavimento a scomparti geometrici solo qui il pavimento è previsto nei progetti preliminari e vedete sempre di tipo geometrico possiamo ben immaginare e intuire anche dalla coloritura che fossero pietre dure come per le pareti non risulta dai numerosi documenti legati alle fasi costruttive della cappella che sia mai stato messo in lavorazione ordinario grazie a quella gran tempra di organizzatore che era Ferdinando I né durante i due secoli e mezzo che ci vollero perché i suoi successori invece proseguirono con molta più lentezza a volte addirittura abbandonando il cantiere tanto che fu concluso solo a metà ottocento ormai prossimi all'unità d'Italia restando tuttavia ancora privo del pavimento verso la fine del regno di Ferdinando I si lavorò invece a un altro pavimento ridotto per estensione ma importante per collocazione all'interno del rica omonima il pavimento vedete è piccolo purtroppo non ho trovato di nuovo sfortuna dei pavimenti una foto è quella prima parte al di là del cancello e poi il secondo gradino prima di arrivare alla pedana sono dei riquadri interamente in pietre dure che abbinano graniti orientali granito dell'elba e diaspro di Sicilia un materiale di nuovo arrivo diaspro duro naturalmente nella manifattura medicia e che ebbe grande fortuna e ci sono anche in queste partiture geometriche ripetuto due volte questo che vedete qui nell'immagine anche in questo caso il progetto fu fornito da Don Giovanni dei Medici e si fonda su regolari partiture di pietre dure i lavori si conclusero dopo la morte nel 1609 di Ferdinando I e furono diretti da Matteo Nigetti responsabile anche della fabbrica della cappella e stabilmente coinvolto nella manifattura granducale fino alla sua morte nel 1649 di recente ho potuto attribuirgli sulla base di un riscontro documentario il disegno per un piano di tavolo conservato a Birmingham ultimato nel 1605 dove il geometra composizione approda effetti di straordinario calidoscopio cromatico ma direi che tanto effetto sontuoso è dovuto soprattutto al campionario straordinario alla sensibilità cromatica degli autori di questo tavolo perché in genere la fantasia del Nigetti come vedremo è di per sé molto più castigata infatti una versione semplificata del tema sempre comunque di grande efficacia che ritengo sia da attribuire allo stesso Nigetti conferma la derivazione di questi intarsi prospettici da quelli che sono nel pavimento di Santa Maria del Fittaglio a destra ma tutto il pavimento di Santa Maria del Fiore della prima metà del Cinquecento gioca amplificandoli o restringendoli su questo modulo geometrico prospettico con effetto di sfondato che nel tavolo come avete visto viene ancora accentuato fortemente ancorato alla tradizione architettonica locale il Nigetti anche al termine della sua lunga attività si mantiene fedele a un gusto sobriamente geometrizzante nel pavimento interfiato della cappella della famiglia Colloredo da lui progettata nel 1643 per la Basilica dell'Annunziamento stavolta i marmi sono solo in piccola parte archeologici c'è del Portoro, c'è Breccia, Medicia per le accennate difficoltà di cui si diceva ieri di continuare a reperire marmi archeologici e quindi questo pavimento è al solito molto sobrio potremmo dire perfettamente cinquecentesco ancora anche se siamo a metà Seicento laddove invece l'apparato scultoreo mostra un'esuberanza decorativa questa si desigla pienamente barocca ma chi ci lavora è uno scultore Francesco Mocchi omonimo del più famoso Francesco Mocchi e quindi credo si debba soprattutto a lui questa adesione barocca si deve al Nigetti probabilmente anche l'unico pavimento seicentesco integralmente conservato in una delle chiese costruite all'epoca a Firenze oggi le nostre chiese hanno direi al 95% un pavimento regolare a quadrati di barmo bianco e bardiglio di Carrara di epoca ottocentesca questo invece dovrebbe essere coevo dovrebbe perché c'è una grande monografia su San Gaetano dove di tutto si parla tranne che del pavimento per cui io seguendo comunque le vicende della chiesa penserei che possa datarsi verso la fine dei lavori nel 1640 lavori che nella primo periodo furono condotti dal Nigetti a cui poi era subentrato Gerardo Silvani quindi o l'uno o l'altro dei due architetti è l'autore del progetto di questo pavimento se una più vivida accensione di colori illumina alcune delle cappelle qui vedete un dettaglio anche del sarcofago in bianco e nero d'Aquitania il pavimento si intona invece alla sobrietà cromatica della navata la pietra serena dominante in tutta l'architettura fiorentina dal 400 in poi se invece un pittore ecco questo è un pavimento che dà più soddisfazione sinceramente che resta almeno per ora ignoto l'artista fantasioso autore del disegno di questo pavimento nella cosiddetta grotticina al piano terreno di Palazzo Pitti un tempo inclusa nell'appartamento di Maria Maddalena d'Austria consorte di Cosimo II dei Medici sopravvissuta alle tante trasformazioni che nel tempo hanno modificato e in parte cancellato la reggia medicia la grotticina è tuttavia stranamente rimasta al margine dell'attenzione negli studi sul palazzo anche la fontana un tempo attiva sormontata da una coppia di putti solo di recente che allo scopo riceveva forniture di marmo nel 1612 il progetto iniziale sarebbe quindi da far risalire a Cosimo II comeppure corrisponde pienamente al suo gusto e alle opere per lui eseguite dalla manifattura Granducale il pavimento a intarcio e commesso di marmi e pietre tenere policrome la conclusione di questa impresa alla quale mi sono avvicinata lo confesso per la prima volta in occasione di questo convegno ritengosi ad apporre nel decennio successivo dopo la morte di Cosimo II nel 1621 lo dà a pensare lo stemma di Maria Maddalena Davibile Tavolino e quindi ho potuto fotografare solo in questa maniera che non è abbinato con quello del consorte con le famose palle Medice però ci sono i gigli Medice e sopra lo stemma è quello personale di Maria Maddalena d'Austria ed è però sormontato, la intravedete, col giglio dalla corona Granducale quindi sembrerebbe consono al suo ruolo di reggente del Granducato che la vedova di Cosimo II svolse dal 1621 al 28 fino alla maggiorità del figlio Ferdinando II nei partimenti di Mario Grigio Perla sono intarziati tralci di fiori tema questo già comparso nei commessi del tempo di Ferdinando I ma in numero maggiore animali acquatici specialmente in sintonia con la viva presenza dell'acqua che scaturiva dalla fonte e non è da sorprendersi se dentro i cartigli che vedete sinuosi e dinamici quasi fossero spinti dalla forza dell'acqua che vi figura racchiusa quasi dei vascelli in navigazione coabitano cigli di naturalistica efficacia come questo che vedete con improbabili ancorché fani essendo quello un momento che si pone al passaggio dalla bizzarria manieristica all'analitica catalogazione del mondo naturale la crescente passione per la natura che animò le scelte artistiche di Cosimo II porta anche alla comparsa nei commessi della Manifattura Granducale di un nuovo materiale lapidio che potremmo definire il parente povero dei marmi archeologici e delle preziose pietre dure predilette da Francesco e Ferdinando De Medici è la pietra d'Arno un alberese all'epoca di facile reperibilità nel Val d'Arno quello che vedete non è un campione è proprio una lastra abbastanza grande nel museo dell'Opificio e che è nella sua cornice originaria qui non è stata fotografata seicentesca è nata proprio per essere un quadretto quindi a questa pietra veniva dato proprio anche un valore intrinseco al di là poi dei commessi o dei dipinti in cui poteva essere usata era appunto un alberese all'epoca facilmente reperibile nel Val d'Arno superiore ma la cui intrinseca artisticità suggeriva all'immaginazione dell'osservatore visioni di terreni e rocce accidentate o di fluide superfici acquatiche perché vedete che ha nella parte superiore queste venature parallele che nel linguaggio di laboratorio venivano chiamate e invece la parte sotto a schegge con questo effetto tromplei tridimensionalità è la pietra paesina perché suggerisce appunto paesaggi rocciosi sia che venisse impiegata come sfondo per dipinti a olio qui ne vedete uno dove c'è appunto questa scena di Giona e le navi sul lineato d'Arno qua invece è più la pietra paesina a servire da sfondo a questo viaggio di Virgilio e Dante all'Inferno sono almeno una quarantina i dipinti della collezione almeno quelli rimasti di Cosimo II che utilizzano per la pittura di pittori vari della corte questo sfondo ma Cosimo II la fa utilizzare come vedete anche come elemento dei commessi lapidei per suggerire nel nostro pavimento il terreno da cui spuntano i fiori è una paesina o le squame di un mostro marino che galleggia nelle onde di lineato d'Arno e quindi questa pietra modesta quanto bizzarra si prestava magnificamente a essere parte attiva in quella gara tra natura e arte così amata dalla cultura del tempo il pavimento della grotticina trasferisce felicemente su ampia scala con un procedimento inverso a quello del dicembre che come visto aveva adottato per i tavoli schemi derivati dai pavimenti quanto si andava facendo sui piani di tavolo che affollano il pur breve regno di Cosimo II sono evidenti le analogie compositive e materiche con un piano come questo oggi a Palazzo Vecchio ma un tempo nella villa del Poggio Imperiale di cui Cosimo II aveva fatto la sua residenza preferita e dove ancora si trova questo tavolo che eleggia protagonisti quasi unici del piano la pietra paesina allineato d'Arno dove emerge dalle acque una fantasiosa fauna marina in tarsiata in alabastro dipinto da tergo un'altra tecnica ancora una nuova tecnica che ricorre anche in due pannelli del museo dell'Opificio cigni e di nuovo animali acquatici sono i frammenti superstiti del rivestimento parietale di una cappella realizzata da Cosimo II nell'amata villa del Poggio Imperiale e il cui tema sembrerebbe essere stato l'esaltazione della natura animale e vegetale o trattandosi di una cappella sembrerebbe più giusto dire del creato dal momento che sopra questi cartigli con gli animali che correvano nella parte inferiore della parete sopra una zoccolatura di marmi si alternavano questi splendidi pannelli con basi di fiori e piante di arancio quello con piante di arancio è l'unico l'altro è al museo dell'opificio sono una coppia e a fine ottocento questi pannelli erano ancora undici ma a fine ottocento il ministero non aveva soldi tanto per cambiare e invitò l'opificio a vendere le sue collezioni di antichità per fare cassa non erano solo le pareti perché la cappella fu smontata al tempo di Pietro Leopoldo rinnovatore in senso neoclassico della villa e se questi frammenti superstiti documentano l'incanto che dovette avere il rivestimento delle pareti del tutto perduto ma anche quello incandito doveva essere il pavimento del quale ci rimane l'attestato della estasiata ma purtroppo generica ammirazione dei viaggiatori settecenteschi che visitavano la villa per tutto il periodo medicio il campo di applicazione privilegiato della manifattura come già ho detto restò tuttavia quello degli arredi oggetti preziosi che in quanto mobili potevano portare nelle regge e palazzi di tutta Europa la testimonianza prestigiosa di un'arte elitaria e preziosa ne vediamo qui uno dei tanti esempi degli omaggi fatti di Zaganduchi Medisce e gli altri degnanti un'arte che era esclusiva del piccolo granducato di Toscana politicamente irrilevante ma così qualificato dal punto di vista del gusto artistico e anche della ricchezza che doveva sostenere questo gusto artistico ma Pitti e nelle svariate residenze Medisce non mancarono comunque pavimenti policromi andati perduti e sui quali ancora non c'è una ricerca documentaria sufficiente nel vato archivio Mediceo a conferma dicevo appunto di questa scarsa fortuna critica dei pavimenti del periodo seicentesco rimane tuttavia Pitti un secondo più piccolo pavimento anche in questo caso non destinato a un ambiente di rappresentanza si sono salvati questi due pavimenti perché erano appartamenti privati delle granduchesse pavimenti da Pietro Leopoldo con pavimenti alla Veneziana o anche a Mattonati questo sembra che fosse nell'appartamento di Violante di Baviera sposa dal 1689 dell'erede al trono di Cosimo III un piccolo ambiente ottagonale indicato in antico come gabinetto dei cristalli e di recente usato come ufficio tanto che questo pavimento era sotto una pedana di legno che lo proteggeva ma anche lo nascondeva i motivi che qui vedete questi tralci di fiori sul fondo bianco richiamano molto parietali per l'oratorio attiguo alla cappella della Santissima Annunziata che abbiamo visto prima che ha a fianco una specie di oratorio sacrestia e di questi pannelli sappiamo che erano in lavorazione poco dopo Petà 600 e ultimati messi in opera nel 1671 quindi questo può servire di riferimento per le date di quel pavimento che abbiamo visto prima guardando poi e mi avvio a concludere a quanto si faceva fuori dalla stretta cerca medicia sono solo poche cappelle per esempio questa è la cappella Corsini nella chiesa del Carmine e qui l'architetto è Piazza Silvani è una cappella grandiosa la più grandiosa in termini di spazi e anche di decoro però vedete che soprattutto di nuovo il barocco è affidato alla decorazione scultoria a queste tre pale realizzate da Giovanni Battista Foggini mentre il pavimento è molto schematico con un modulo questa specie di carta piegata che addirittura risale al modello dei mosaici bicromi romani a testere e con per impreziosirla delle lastre di africano all'accesso della cappella Foggini che abbiamo visto lavorare come scultore nella cappella Corsini è invece il progettista in toto della cappella Ferroni alla Santissima Annunziata di Firenze 91-93 ma anche qui questo barocco finalmente maturo in una Firenze così restia ad accoglierlo è affidato soprattutto alla splendida decorazione plastica Foggini è il più barocco degli scultori fiorentini del secondo seicento anche perché in età giovanile era stato mandato a Roma da Cosimo III proprio per abbeverarsi alle fonti del barocco romano e qui Foggini è all'opera in prima persona come scultore di marmi ma anche come bronzista era un bronzista straordinario era direttore dal 1682 della Manifattura Granducale dove lavorava in prima persona come bronzista vedete infatti la finezza di questi racemi di bronzo dorato sulle porte le due porte di accesso alla cappella qui ne vedete un dettaglio ecco il pavimento che presumibilmente è anche questo un disegno del Foggini riecheggia questi racemi in marmo giallo di Siena oppure con questi rosoni dove compare il fondo di marmo nero questi ordano un po' alla lontana in maniera sicuramente più povera quelli splendidi in calcedonio brillanti proprio come un bronzo pietrificato che invece ornano le tavole del tempo questa è una tavola del 1716 disegnata proprio da Foggini per la manifattura medicia dove vedete appunto la sofisticazione di questo motivo del racemo che è anche nel pavimento della cappella dove compare il marmo nero del Belgio che era il fondo preferito per i tavoli del tempo in cui in abbinamento con i toni delicati del bardiglio pallido del giallo di Siena o rosa violascio c'era un altro ambiente che stavolta da ricondurre ai medici a Cosimo III ed era la cappella di Santa Maria Maddalena dei Tazzi nella chiesa monima a Firenze pareti e porte anche quelle con splendidi bronzi fogginiani sono intatti il pavimento è stato del tutto demolito nell'Ottocento e rifatto in maniera non avendo più traccia di quello precedente in maniera del tutto nuova e anche abbastanza impropria ai primi del Novecento quindi del tempo di Cosimo III e delle sue poche iniziative architettoniche rimane questa abbastanza modesta la Basilica dell'Impruneta dove si venera una Madonna miracolosa il pezzo forte in realtà donato da Cosimo alla venerata immagine della Madonna è questo splendido questo sì paliotto d'argento di nuovo realizzato sul disegno del Foggini da due orafi della corte di Cosimo III mentre il pavimento vedete ha una bella pedana quello sì l'altare di granito orientale e poi un disegno molto semplice che Cosimo Sirie l'ultimo direttore dell'antica manifattura granducale nel 1854 dovendo lo restaurare lo definiva di grossolano spartito a poche formelle di lì a poco arrivava il regno d'Italia l'antica galleria dei lavori sopravviveva con il nuovo nome di opificio delle pietre dure e toccherà all'opificio erede di quel passato illustre portare a compimento quanto nei medici né lorena erano riusciti a intraprendere il pavimento della cappella dei principi che l'opificio realizzò quasi interamente in pietre dure sul proprio disegno dal 1884 a 1962 anni in cui spesso si distruggeva il 600 qui invece lo si completa attingendo alle straordinarie riserve lapide lasciate dai medici e alle risorse di una manualità all'altezza della grande tradizione da cui discendeva grazie siamo noi che ringraziamo per averci mostrato degli splendidi manufatti bisogna dire che nei temi che trattiamo Florenzia Docet direi che batte diciamo di gran lunga almeno per i materiali diciamo Firenze batte Venezia decisamente io direi che possiamo rimandare eventuali domande al pomeriggio e passare alla prossima comunicazione di Paolo Sanvito che è storico dell'arte anche lui ma insegna storia dell'architettura alla Federico II di Napoli si è occupato di vari temi soprattutto temi che riguardano ad esempio lo sviluppo del Duomo del periodo gotico del Duomo di Milano si è occupato di temi che riguardano la magia e l'architettura si è occupato ancora di Daniele Barbaro direi un tema importante per Venezia ci parlerà della funzione dei pavimenti a marmo policromo nella bottega dei Fanzago e la loro irradiazione io ringrazio di cuore gli organizzatori per l'invito a questa meravigliosa conferenza Lazzarini e Volter e dunque in un breve preambolo vorrei dire che non tutte le foto saranno visibili perché non sono state trasformabili in JPEG nel breve tempo che siamo adesso a a disposizione quindi ogni tanto ci sarà un punto in cui il powerpoint dice non è leggibile mi dispiace introducendo il tema sul luogo appunto di indagine Napoli si può dire che la campania sia stata luogo di lavorazione dei marmi ma anche di importazione fin da tempi molto precedenti al barocco durante il regno angioino va menzionato che si arrivò a importare da Roma diverse quantità di marmo come ricorda Caroline Brasilius nei suoi studi sul gotico angioino evidentemente per le necessità della nuova decorazione della capitale neofondata dalla nuova dinastia nel cinquecento l'intaglio divenne particolarmente sviluppato mentre il regno degli Aragona aveva importato marmi dalmati e toscani a causa della presenza di grandi toscani come Giuliano da maiogeo invece al contrario il viceregno a partire dal 1503 in poi vede l'affermazione di un repertorio decorativo policromo molto più variato che si avvale di tradizioni artistiche architettoniche tra le più diverse una delle prove di questo è l'altare non l'altare ancora perché si trova nella stessa chiesa di Santi Severino e Sossio che è realmente un incunabulo della grande decorazione marmorea cinquecentesca con un uso straordinario della più ampia varietà di segni e di marmi ma naturalmente essendo ben precedente al periodo barocco non lo considero forse tuttavia appunto non è casuale che Fanzago si trovi a fare una delle sue più fondamentali opere proprio a Santi Severino e Sossio cioè questo altare che è considerato incunabulo della sua tipologia di altare assistevamo in questo periodo tardo rinascimentale al trasferimento di alcuni dei più interessanti scultori dal resto della penisola Pietro Bernini Michelangelo Naccherino Giovanni Balducci Pompeo Caccini a Napoli e specialmente dopo il 1590 Giovanni Antonio Dosio già citato qui e sarei stato tentato di portare anche io qualche confronto della Cappella Gaddi ma tanto meglio e tutti questi stranieri tra virgolette si trovavano lì a fasi alterne ma comunque durevoli stabilendo a Napoli una tradizione di lunga durata il confronto tra le opere napoletane di Dosio e quelle fiorentino si impone ma naturalmente sarà il tema di un ulteriore studio o di un'ulteriore conferenza non da dedicare al barocco qui soltanto velocemente un saggio di ciò che si vede a Santi Severino e Sossio ed ecco questo è il punto di partenza del Dosio prima di trasferirsi a Napoli come però è stato ampiamente già puntualizzato dalla Anna Maria Giusti e la cappella Nicolini si trova interessantemente poco prima dell'arrivo di cronologicamente poco prima dell'arrivo di Dosio a Napoli perché appunto avviene nel 1590 e la cappella è completata nel 1585 altri modelli decorativi però non andrebbero trascurati se i lapicidi e gli intarsiatori napoletani erano in realtà lombardi provenienti da Milano e dal suo circondario portando con sé un repertorio della zona prealpina campionesi e così via tuttavia nonostante questo grande patrimonio da studiare soltanto alcuni lavori sono stati compiuti direttamente sul campo da restauratori della facoltà di architettura in particolare della Federico II e dal dopoguerra in poi lo studio dei marmi commessi a Napoli è stato in gran parte negletto anche la documentazione sulla produzione dei materiali per l'intarsio per pavimenti oltre che per decorazione parietale presso l'officina di Fanzago e quindi nel corso di tutto il Seicento non è ancora stata considerata negli studi sull'artista ancora una volta l'ignoranza del tema pavimenti e addirittura molto spesso pareti un convegno monografico tenutosi a Napoli non molto tempo ammesso come recita il titolo ha in pratica ignorato del tutto i pavimenti e anche le pareti focalizzando come al solito solo gli altari eppure questo ci dovrebbe stupire Napoli con tutto il resto d'Italia vedeva riconosciuto in quest'arte un primato europeo direi i materiali usati avevano radici complesse cito in questa occasione a questo proposito Nicola Pagliara secondo cui nelle officine seicentesche dovrebbero essere stati presenti 400 toni di colore diversi è un soltanto una citazione non ho naturalmente l'elenco di questi 400 tonalità le cave di produzione per il meridione erano sparse in un territorio tra Sicilia e Puglia da quest'ultima in particolare provenivano i calcari di Castellaneta all'interno dei quali il più bello la pietra di Apricena a volte beige o eburnea o rosata e come abbiamo già discusso in tutte le ali veniva usata la pietra con le sue diverse intensità di venature marroni a secondo della successione nella profondità del tessuto marmoreo per tutti questi secoli di durata del regno di Napoli si può identificare la rete internazionale degli scultori dei cavatori e dei mercanti che gestiva trasporto ricezione ordinazioni e la distribuzione nella penisola includendo tutte le principali città da Palermo e Palermo arrivo a uno dei miei due principali esempi Santa Teresa degli Scalzi che ho estrapolato anche per la sua singolarità leggermente successiva alla grande commissiva e qui Fanzago infatti dispiega una raffinatezza tutta peculiare propria nell'intaglio e nelle scelte e negli accostamenti anche la facciata avrebbe avuto una fase di lavorazione per quanto riguarda il commesso però la chiesa consacrata nel 1612 e legata all'università perciò chiamata anche Santa Teresa degli Studi ebbe un restauro di consolidamento nel 1835 che in gran parte manomise la facciata e con la tutta via nelle fonti abbiamo la menzione cito di marmi bianchi e trischi conforme lo disegno segnato al muro con inoltre cito due colonne di pietra di verdone di Genoa con i documenti di pagamento agli assistenti di Fanzago in particolare Salomone Rapi per la facciata e quindi con una precisa indicazione di quali fosse il procedimento lavorativo particolarmente la cappella più venerata e più sparzosa all'interno della chiesa nel transetto sinistro quella di Santa Teresa d'Avila che dalle fonti d'archivio può essere datata a partire dagli anni 1630 e primi anni 40 a rappresentare un gioiello nel genere del commesso marmoreo conosciamo perfino i finanziatori dell'opera e i lavori furono così complessi da protrarsi per una lunga fase di circa vent'anni come accadeva nello stesso momento per altri monumenti come il pavimento della quasi coeva chiesa del convento della certosa di San Martino Celano uno storico locale attribuisce interamente i pavimenti a Fanzago e non solo il coro che fanno riferimento anche alla parallela commissione di Santa Teresa a Chiaia l'altra Santa Teresa dei Carmelitani che attesta quindi un potente mecenatismo di architetture lussuose in quest'ordine analogamente a quanto accadeva con i certosini dalle fonti risulta che la cooperazione tra i marmorari e gli stuccatori era strettissimo l'aiuto per esempio Silvestro Faiella cito trovava disegnata a grandezza naturale sulla parete da stuccare la decorazione con i capitelli per quanto riguarda le pareti naturalmente quindi immagino capitelli di lesene in modo analogo ma anche con un cospicuo uso di cartoni e disegni si deve essere proceduti per l'interno e per il pavimento ma in questo caso non abbiamo rivenuto materiali grafici che esistono soltanto per la certosa di San Martino dove peraltro abbiamo entrando quindi nella cappella abbiamo moltissimi nomi degli assistenti i documenti sono estremamente informativi perfino della precedente officina di Gian Giacomo di Conforto che fino al 1612 fino al 1620 aveva gestito l'officina e fin dal 1610 gli scultori e marmorari che altrimenti sono fino ad oggi sono menzionati Cristoforo e Giovanni Domenico Monterosso stuccatore insieme ad un marmoraio Domenico Novellone e tuttora restano sconosciuti neanche il citato Silvestro Saiella ha trovato attenzione negli studi che invece è senz'altro il maestro del più noto Francesco Faiella attivo nel Settecento e che meriterebbe forse un'indagine poi abbiamo i documenti di pagamento per l'altare maggiore della Chiesa stessa elaborato da Dioniso Lazzari sui disegni di Fanzago anch'esso però assente da Santa Teresa degli Scalzi perché fu collocato nel 1808 a Palazzo Reale un trasferimento che è senz'altro significativo evidentemente per la sua straordinaria bellezza che apperteneva soltanto ai carmelitani scalzi questo però è fatto increscioso perché comportò la distruzione di tutto il recinto del coro e dell'eventuale pavimento che accompagnava questo altare così come accompagna sempre un pavimento ogni altare di Fanzago per questo lavoro della zona presbiteriale gli archivi parlano del pagamento della somma ancora a questo Salomone Rapi cito a conte dell'opera che avrà a compiere nella chiesa della madre di Dio dei padri scalzi di Marmi Mischi secondo il disegno colorato che se ne conserva da lui firmato tanto da lui quanto da Salomone Rapi fine citazione quindi i documenti sono piuttosto vasti per quanto riguarda anche la zona presbiteriale per farci un'idea di ciò che esso è stato bisognerà guardare quello quanto concerne invece la cappella di Santa Teresa d'Avila che stiamo per analizzare la sua decorazione fu decisa dal convento nel 1637 e i lavori durarono fino al 50 circa il mecenate Vincenzo Acosto donò anche il cancelletto in ottone seguito poi dal fansago soltanto molto più tardi pochi anni prima della morte nel 1672 vado lentamente sempre più verso l'interno della cappella e mostro la sua struttura nella quale uno zoccolo in questi marmi rossi forse rosso di Francia appunto di cui si è parlato prima sorreggono sono su di una superficie in cui come si vedeva prima sono rappresentati dei vasi con con fiori e poi salendo dallo zoccolo verso l'alto ci sono ulteriori decorazioni speculari così come fino all'altare ci sono ulteriori rosoni che è un motivo molto molto ricorrente nell'officina del fansago tralascio le ulteriori decorazioni dell'altare maggiore perché esulano dal tema della decorazione pavimentale ma naturalmente come abbiamo visto dalle immagini precedenti sono strettamente legate alla decorazione pavimentale anche il celebre caravaggesco Massimo Stanzione fu incaricato degli affreschi della calotta della cappella ma oggi si è aperta da un lucernario e quindi sono persi qui comunque una veduta di come si conclude la cappella nella zona dell'altare qui il lato destro in cui i motivi floreali che abbiamo visto per il pavimento sono ricorrenti e qui finalmente il coronamento dell'altare stesso che è anch'esso in marmi policromi e che ripete i motivi decorativi così tipici dell'officina ecco e qui apro brevemente il discorso su come funzionino queste idee compositive già studiate molti anni fa da Georg Weisse perché qui alla Santa Teresa degli Scalzi nella zona prediteriale troviamo in embrione una declinazione dei partiti decorativi tipici della bottega Fanzaghyana e a mio avviso si potrebbe pensare che l'artista abbia utilizzato la commissione carmelitana per sperimentare le proprie invenzioni di repertorio infatti proprio perché si tratta degli stessi anni di realizzazione della certosa di San Martino un confronto si impone anche appunto il tema del vaso di fiori da cui si diramano i racemi l'abbiamo visti anche prima e questi motivi floreali sono denotati dalle tipiche volute spirali formi ricorrenti in Fanzago così come anche il coronamento dell'altare ha delle volute spirali formi Weisse definiva questa questione motivo a C con dorso di bruco perché spesso è decorato con forme zoomorfe come di insetto le volute a C sono però tipiche dei più bei portali della certosa di San Martino a cui passo qui direttamente alla decorazione a festoni e a rosoni che ricorrono così nella decorazione di commesso marmoreo come nella decorazione tridimensionale sui timpani oppure ancora una volta nei pavimenti a San Martino in particolare nel pavimento della zona presbiteriale e poi nella questi appunto nella navata qui sulla sinistra qui nello scalino di accesso dalla navata all'altare e poi mi manca una foto con un rosone ma non so appunto se sia andata persa ma un rosone che si trovava inserito all'interno di un pavimento del complesso di San Martino in ogni modo tornando a considerare queste queste forme ricorre anche un freggio ad esse sempre complessamente decorato anch'esso con il motivo di dorso di bruco come alcuni di questi racemi ad esse che sul loro dorso portano la forma del corpo del bruco di un comunque di una larva animale non meglio identificata come già aveva osservato Weisse Pansago nelle sue decorazioni questo freggio a esse lo usa sempre complicandolo e ha benutti che in una decorazione si non è quasi mai una semplice a esse ma è sempre complicata questo freggio a esse o questa forma mistilinea è anche alla base del cancello dell'ingresso della cappella di santa teresa come ho menzionato prima era completato nel 1600 da parte di Pansago torno a a porre comunque conclusivamente il problema di quali siano i motivi di queste decorazioni l'origine di queste decorazioni a c volute che diventano sempre più complesse a c innestate le une nelle altre come per esempio qui nel recinto dell'altare a San Martino sulla sinistra è un motivo decorativo che per eccellenza parte dal campo di decorazione e lo separa dal rispettivo sfondo è una sorta di cornice predestinata a separare questa decorazione estremamente lussureggiante dal supporto architettonico sulla quale essa è stata realizzata comunque queste volute sono anche elemento strutturale della decorazione stessa sono la mediazione tra la struttura architettonica e la decorazione più complessa che eventualmente l'artista ha potuto concepire i marmi usati che molto spesso vedono un ricorso al rosso forse anche occhio di pavone o rosso di francia nel caso di cappelle che abbiano una funzione liturgica liturgicamente rilevante possono eventualmente anche essere marmi che cercano un effetto di raccoglimento per la meditazione religiosa come nel caso di di santa della cappella di santa Teresa d'Avila che è una cappella naturalmente per il per l'uso estremamente privato del convento un caso in cui la funzione liturgica è anche molto rilevante dando adesso gli ultimi esempi napoletani è la commissione per San Nicolò del Lido a Venezia che è una sorta di grande macchina barocca voluta dal convento benedettino per una consarcazione o rito di traslazione di reliquie estremamente pastoso e rappresentativo voluto dal convento stesso in questo caso dunque l'opera di Fanzago si inserisce nella per la committenza in quanto realizzatore di una grande macchina che serva per la cerimonia di traslazione delle reliquie e per la riconsacrazione essendo tra l'altro la chiesa dedicata a ben tre santi non soltanto San Nicola vorrei vorrei soltanto leggere a questo proposito la breve cronaca che è rintracciabile nei documenti dell'archivio di Stato che ci riferisce quale uso fu fatto di questo altare per la nuova consacrazione infatti al momento della traslazione nel 1634 il convento salì una spaziosa scala preparata che giungeva all'arca di pietra mentre il reverendo padre Abate celebrava la messa cantata a regola del signor Claudio Monteverde maestro di cappella di San Marco a questa cerimonia di traslazione parteciparono anche gli artisti stessi dell'officina che erano stati inviati a Venezia per il montaggio dell'altare di San Nicolò qui ancora una volta Spanzago fa uso dei strumenti estremamente sofisticati di decorazione che aveva in mente in questi anni per la Certosa che cominciano proprio nel 33 sono anni in cui addirittura fa uso di incastonamenti di lapislazzuli e cristallo di rocca all'interno dei suoi commessi e probabilmente questo è il motivo per cui la fama della raffinatezza delle sue decorazioni era giunta fino a Venezia e causò la commissione da parte della comunità dei Benedettini di San Nicolò credo che il tempo sia finito grazie ho notato la bellezza di questi disegni floreali che è una sua costante mi pare di aver visto e poi anche l'introduzione per quelli napoletani di molte pietre siciliane riconosciute proprio secondo me ho visto il giallo di Castronovo il libeccio quindi erano pietre che del resto si trovano impiegate anche in vari altri edifici della chiesa del Gesù documentate a Napoli quindi uno studio su Napoli è stato anche già sul piano io ho fatto delle osservazioni quando ho fatto le visite ma non ho pubblicato perché se ci fosse però ti posso dare una mano grazie passiamo saltiamo perché abbiamo accumulato abbastanza ritardo la comunicazione di Stefano Piazza che eventualmente si riprenderà nel pomeriggio se ci sarà tempo come dicevo intervenire per questioni di salute e passiamo invece all'ultima comunicazione della giornata di Andrew Hopkins dell'Università degli Studi di L'Aquila intitolata il pavimento della chiesa della salute Andrew è anche lui storico dell'arte che però si occupa di storia dell'architettura insegna questa materia all'Università di L'Aquila ma le sue ricerche riguardano diciamo molto Venezia e i suoi studi diciamo si dividono tra Venezia Roma grazie vorrei iniziare ringraziando l'Istituto Veneto per questa bella iniziativa anche per la loro ospitalità eccetera e l'ottima organizzazione che abbiamo visto in questi due giorni in più Wolfgang Woltz per l'iniziativa e anche tanti colleghi con cui abbiamo già parlato ieri e sono riusciti attraverso la loro generosità con immagine ricostruzione e migliorare questo testo e mostro queste immagini perché devo confessare io sono sempre stato molto distratto attento all'edificio quello che si vede in verticale poco poco attento a quello che si vede sul per terra questo forse il motivo per cui io non ho affrontato il discorso del pavimento nel mio libro quindi confesso sono copevole uno dei motivi naturalmente è che nel disegno originale di Longhena lui non non si tratta del pavimento quello è assolutamente normale per planimetrie architettoniche raramente se quasi mai si vede il disegno del pavimento in questo caso però si vede che lui anche diventa sempre più attento all'informazione che offre nella planimetria qui vediamo due sagrestie quello sulla sinistra non viene realizzato così perché deve trattare con i suomaschi e loro vogliono un'altra cosa che si collega con anche il convento accanto nella planimetria della chiesa degli Scarsi del 1654 quindi non offre delle sagrestie perché è chiaro che questo sarà verranno disegnate e progettate in conversazione con i cameletani quindi inutile raffigurare nella proposta originale quindi anche qui il pavimento non viene indicato invece la domanda che voglio proporre qua o chiedere oggi è questo che è un po' un'estensione di quello che ho chiesto nel libro sulla chiesa della salute quando Longhena che vedeva le feste ducali e quindi progettava una chiesa adatto anche e quindi questo nel 1631 quindi quando siamo negli anni 70 fine 70 inizio 80 del 600 fu progettato o meno il pavimento anche con questa considerazione della processione ducale o meno qui è lo schermo che ho sempre usato quello dell'imbianco del VIP del doge e della signoria che attraversavano la porta centrale per arrivare al santuario uscire invece quello in grigio è sempre quello delle scuole che entravano per le porte laterali attraversavano tutto l'ambulatorio e poi uscire e quindi due percorsi ben distinti questo viene in qualche modo agevolato dal disegno del pavimento o no in un senso i pavimenti sono un po' come percorsi indicati qui con la strada si potrebbe pensare così quindi uno deve attraversare qui la porta principale vediamo che non abbiamo una direzione verso il centro però prevale questo percorso dell'ambulatorio no mi sembra questo è chiaro con questo verona rosso di verona e il bianco questo lo vediamo qua quindi c'è una specie di frontiere chi entra per la porta principale deve attraversare queste due decorazioni diverse per poi arrivare su questo rosso e bianco e anche qui il disegno del pavimento in stelle situate in tutti gli angoli indietro dei grandi piloni dove si trovano pure le porte laterali in un senso si indicano si riempiono questo spazio abbastanza anomalo non quadrato le riempiono molto bene con il disegno e questo anche con queste stelle rotonde sono il momento che il pellegrino chi visita la chiesa in processione deve cambiare direzione e questo si sforge quindi la stella in questo caso l'abbiamo visto tante stelle ieri e probabilmente anche ancora più oggi questo è il momento del cambiamento di direzione mentre uno va in processione per l'ambulatorio l'ambulatorio stesso consiste nel pavimento più semplice solo rosso e bianco e quindi interessante in questo senso anche perché è aperto verso l'altare per interno verso la rotonda ci sono questi bodi in bianco e nero che chiudono il pavimento sul lato destro dell'immagine ma a sinistra non c'è un bordo quindi si è aperto verso l'altare questo mi sembra significativo lo vedete molto bene qua quando vediamo verso uno degli altari e il contrasto quando vediamo dall'ambulatorio c'è questo blocco di pavimento con un disegno diverso prima di arrivare al pavimento mestoso della rotonda quindi è molto ben distinto tutti i diversi spazi e indicano secondo me anche il percorso dei pellegrini questo si vede bene in questa foto presa dalla cupola dove sono ben distinte queste zone dell'ambulatorio dalla rotonda centrale che potrebbe essere questo solo per un'idea un l'idea di un tappeto mi sembra che potrebbe essere anche questa idea dentro della rotonda e vedete che ben distinto sono separate di questo bordo rosso che si distacca tutto quello delle ambulatorie e fuori dalla rotonda centrale e quello lo vediamo qui questo rosso è cruciale che distingue l'ottagono il perimetro ottagonale dal tondo del pavimento centrale e quindi sono nettamente separate anche con problemi di conservazione negli angoli che magari viene affrontato quindi il pavimento centrale consiste in questo grande bordo con grandi stelle sempre leggermente diverse in due modelli questo più elaborato che vediamo nel centro è quello a destra e sinistra più semplice poi passiamo a questa geometria delle zone nel mezzo fra la zona centrale che cambia abbastanza la nostra comprensione quando lo vediamo in diretto oppure guardando sinistra e guardando a destra quindi ci sono questi effetti ottici molto forti per il visitatore nella chiesa per non parlare della zona centrale il tondo naturalmente è difficile avvicinarsi se non nel giorno della festa perché questi preti lo tengono sempre chiusi e off limits ai visitatori sembra proprio necessario per arrivare quindi il centro di tutta questa composizione in tutta la chiesa è l'unico opposto dove invece di un disegno geometrico c'è un disegno floreale quindi poco ma molto significativo proprio al centro del pavimento questo è tutto che riguarda la rotonda quindi abbiamo l'ambulatorio attorno per i peregrini per le scuole abbiamo questo bellissimo disegno centrale per il doge e la signora che dovrebbe attraversare la chiesa per dare festa la madonna della salute quindi si attraversano dall'entrata sono gli unici per passare attraverso questo pavimento centrale maestoso per entrare nel santuario e qui troviamo la chiave l'adattazione la progettazione credo di questo tutti i pavimenti della chiesa della salute perché qui troviamo nel santuario come potremmo immaginare un disegno molto complesso più complesso dell'ambulatorio questo bellissimo pavimento che vediamo qui questo è il disegno centrale del santuario e quindi possiamo confrontare il disegno attuale realizzato con il raccolta gasperi numero 70 che è questo che vediamo qui che è l'unico documento visivo che riguarda i pavimenti nella chiesa della salute che cos'è questo disegno già ieri interessante perché ci sono due schizzi due disegni qui sinistra e destra che riguardano San Giorgio Maggiore quindi prese come studio di pavimenti già realizzati prima il salizzo del santuario di San Giorgio Maggiore e il salizzo del coro di San Giorgio Maggiore questi sono presi come modelli quando Gasperi fa questo disegno e sono molto simili ai disegni della chiesa della salute quindi questo è San Giorgio si vede che rispecchiano come visto già ieri il disegno a destra con quello realizzato ma poi vediamo l'altro pezzo del disegno e questo è forse uno dei due pezzi più significativi perché questo è un disegno di progetto no? questo è Gasperi che sta progettando il pavimento del santuario della salute e questo lo possiamo vedere perché corrisponde a quello realizzato e credo che questo qui si vede a abbastanza identiche il progetto con il manufatto quindi per la prima volta abbiamo adesso possiamo dire che probabilmente tutti i pavimenti della chiesa della salute sono progettati da Gasperi e realizzati da lui quindi io credo che questo parlando ieri con i colleghi questo è un'idea abbastanza condivisa però naturalmente possiamo discuterlo dopo è un po' difficile però capire magari la datazione e qui vorrei esplorare un pochino anche nel santuario ci sono questi body che separano la zona centrale dalle zone ai lati questi semicirchi ai lati dove si siedono il doge e la signoria questo è il disegno originale della rielaborazione del santuario quindi spazio centrale e due spazi ai lati e questo viene rispecchiato nel disegno del pavimento del santuario dove abbiamo questa zona centrale e poi anche queste zone pavimentate ai lati con un altro disegno e anche con dettagli molto interessanti come qua purtroppo sempre coperte di questi banchetti senza persone che ci rende molto difficile vedere questi pavimenti un'idea parlando ieri con Elisa Elisa Pannunzio che ringrazio per il suo aiuto e la sua generosità con l'informazione e un po' quest'idea delle sequenze dei vari pavimenti nella chiesa della salute un'idea sarebbe che si iniziasse con il pavimento davanti l'altare maggiore l'altare maggiore viene realizzato e compiuto nel 1680 quello potrebbe essere la data dell'inizio del pavimento perché abbiamo il documento del 1679 di Longhene che dice che bisogna fare i pavimenti quindi i pavimenti fino a quel punto non erano questi è chiaro che al momento che uno fa l'altare maggiore probabilmente per forza si fa prima il pavimento e poi si mette sopra l'altare maggiore quindi quello sarebbe un inizio di questa pavimentazione e questa sequenza sarà spiegata da Lisa perché lei ritiene che questo è il pavimento realizzato per prima le motivazioni saranno spiegate quindi questa zona qua negli angoli vediamo questi disegni il semplice geometrico nel mezzo e poi questi quadrati negli angoli quindi che distinguono stelle messo al diagonale con questo geometrico per riempire bene tutti gli spazi della zona davanti all'altare probabilmente quell'ultimo pavimento anche grazie a Lisa sarebbe quello del coro è molto più duro come disegno a me non mi piace forse quello di meno però anche quello meglio conservato però è molto più duro come disegno quello della rotonda centrale sarebbe quello esecuto subito dopo quello dall'altare maggiore quindi si parla magari degli anni 81 82 82 87 quindi lavori fatti a posto per completare la chiesa prima della consecrazione nel 87 questa è l'ipotesi però documenti non ne abbiamo supponiamo che fosse tutto completato prima dell'87 prima della consecrazione a me mi sembra plausibile adesso veniamo al centro della rotonda e qui vediamo anche un altro pezzo del disegno di gas la rosetta di mezzo della salute e quindi qui siamo sicuri che questo progetto il contributo di Mario di ieri abbiamo capito come lui progetta i pavimenti questo è un altro esempio io non ho tutte quelle belle linee rosse gialle blu che si evidenziano premendo altri bottoni però si vede qua per esempio queste due linee che sono più vicine qua nel centro e più larghe al bordo questo si vede pure in questo disegno sono in ezzo più strette e più larga quindi a me mi sembra senza dubbio che è stato fatto tutto da Gaspari anche altri dettagli qui che corrispondono grosso modo con il disegno che vediamo qui quindi è un misto di disegno floriale ma molto poco si vede anche qui nel vuodo e nel centro per il resto tutto geometrico il disegno che si trova sul retro è stato visto ieri per il progetto associato con il pavimento davanti alla facciata della chiesa di San Rocco e anche molto simile ai disegni delle stelle che troviamo nella chiesa della salute quindi forse è un lavoro dello stesso momento è stato deciso di levare tutti il pavimento del santuario nel 2013 per eseguire alcuni lavori e inserire un sistema di riscaldamento sapremo molto più di questo quando parla Elissa cosa più importante è perché è una domanda che mi sono sempre fatto senza avere una risposta io credo che a San Giorgio nella scalone monumentale abbiamo i pavimenti originali di Longhena della sua bottega ma c'è qualcosa che non funziona secondo me è stato rimontato possibilmente probabilmente da Follati nei restauri drastici del periodo 50 dopo guerra perché c'è qualcosa che non ci sono problemi eccetera eccetera c'è qualcosa che io non ho mai capito però mi sembra sono le cose originali materiali originali però sono state rimesse in qualche modo sarebbe da indagare questo comunque sotto il pavimento attuale del santuario è stato scoperto questo pavimento di cotto che vediamo qui in queste due foto grazie Elisa anche il coro quindi un pavimento quotidiano di cotto per agevolare la chiesa che era ufficiata però è una cosa sempre con una previsione per l'eventuale cioè di coprire questo eventualmente con i soldi con il tempo con il pavimento più degno della chiesa della salute però è importante che questo sta sotto e ci fa venire una serie di domande uno delle quali un po' chiesto da Martin ieri cosa voleva Longhenne per fuori è plausibile interessante possibile che lui voleva mattoni quindi colore rosso fuori che si vede nell'incisione di Boschini in 1644 e anche forse perché a quel momento dentro era anche un cotto rosso e quindi si abbinavano bene fuori e dentro in quel momento e comunque anche dentro eventualmente venisse sostituito o coperto con un altro pavimento più o meno rosso quindi i colori andavano bene e quindi grazie Martin per questa ricostruzione come fosse stato a sinistra se fosse tutto rimatone quel bel rossetto invece del secciato attuale questo grigio e bianco questo probabilmente è stato fatto da Benoni iniziato da lui 1681 82 sempre questa realizzazione davanti la chiesa io mi chiedo però anche qui se questo pavimento che vediamo oggi è veramente del fine seicento oppure di un'altra data i cherubini è sotto la riva quello ha il gusto per me fine seicento invece questo che vediamo sopra a me mi sembra c'è un altro gusto io non lo so però quindi vi chiedo anche la vostra opinione sulla progettazione di questo pavimento e se è veramente quello ancora del fine seicento per la consecrazione o meno quindi sarebbe molto simile a quello del redentore è un po' simile quindi la data non lo so ok per concludere cosa si vede a Roma in questo periodo Pietro da Cortona un pavimento di Luca e Martina stessi anni iniziato negli anni 30 compiuto negli anni 70 80 cosa vediamo vediamo un pavimento molto semplice per non distrare all'alzato con Borromini San Carlo alle quattro fontane vediamo anche qui vediamo anche qui un pavimento molto semplice grigio e grigio grigio bianco che rispecchia un po' il disegno generale della chiesa ma senza distrarre troppo dal la visione degli alzati e le cose complicatissime sopra Bernini è uno dei pochi con questo disegno per San Andrea al Quirinale 1658 dove si mostra non solo la planimetria della chiesa ma pure un'idea della pavimentazione quindi molto interessante per i gesuiti per una chiesa con pochi disegni archittonici che abbiamo che dimostra questo interesse e questa importanza del pavimento alla fine il pavimento abbastanza semplice non in colore ma solo di nuovo in grigio e bianco e mi chiedevo questo chi ha disegnato questo 50.000 la banca nota sembra che c'è un progetto per un pavimento qui sopra forse ma importante i pavimenti che vengono in considerazione e quindi credo che una delle cose importanti di questo convegno è forse sono due questa attenzione che ci ha spinto a guardare con attenzione per la prima volta e in molti casi i pavimenti veneziani per la loro importanza secondo me sono molto importanti e poche studiate quindi grazie ringrazio per questa opportunità di affrontare finalmente questo tema che mi sembra fondamentale la seconda cosa assolutamente cruciale è che finalmente abbiamo grazie a una sponsorizzazione privata abbiamo tutti i disegni di Gasperi schedate e fotografate e questo dopo lunghi anni di attesa ci è consentito a capire la grande importanza di Gasperi questo architetto non sufficientemente studiate bene da Massimo e di Ruggero studiato da altri però nell'insieme viene fuori con questa schedatura e con queste foto che lui è molto molto più importante di quello che hanno pensato negli anni 50 e negli anni 60 e uno degli indici di questa sua importanza secondo me sono questi disegni anche il fatto che per esempio è lui l'autore del pavimento meraviglioso della Chiesa della Salute grazie molte grazie per questa panoramica completa sul pavimento e anche per i tentativi di interpretazione psicologica dei disegni io credo che ci saranno parecchie domande ma ovviamente le rimandiamo al tardo pomeriggio per ora c'è la pausa caffè quindi abbiamo tutti di ristoro grazie grazie